Nessuno attendeva la fine del mondo per l'anno 1000 di Marco di Matteo. Un mito storiografico ci presenta la società europea al termine del X secolo come paralizzata per colpa di una superstizione cristiana dal terrore della prossima fine del mondo che si credeva coincidente con il compimento del millesimo anno dalla nascita di Cristo. Per prepararsi adeguatamente alle mezzanotte di San Silvestro del 999 gli uomini del tempo avrebbero abbandonato ogni attività e si sarebbero dedicati solo alle opere di preghiera e di penitenza. Essi inoltre sarebbero accorsi ad offrire ai monasteri i propri beni e tesori per ottenere il perdono delle colpe. Vedendo spuntare l'alba del nuovo millennio avrebbero tirato un sospiro di sollievo e si sarebbero impegnati con gioia e rinnovata lacrità in tutti i campi della vita. In realtà questa ricostruzione è puramente immaginaria e si basa su leggende inventate circa 500 anni dopo tali presunti eventi che compaiono per la prima volta negli annales del monaco benedettino occultista Giovanni Tritemio. Nel Settecento anche alcuni ecclesiastici, soprattutto i benedettini animati dall'intento di purificare la devozione religiosa da ogni elemento superstizioso hanno accreditato la leggenda dei terrori dell'anno 1000 che si intendevano condannare alla stregua di tutte le altre manifestazioni di barbarie del passato. Poi le immagini di queste presunte paure e superstizioni collettive furono riprese prima e durante la rivoluzione francese da filosofi e pamflettisti anticlericali che accusavano la Chiesa non solo di aver diffuso credenze irrazionali tra il popolo ma di averle sfruttate ingannevolmente per incitare nobili borghese e contadini a donare i loro beni ai conventi e alla Chiesa. Sulla base di tale arbitraria ricostruzione in Francia nel 1791 si giustificò la confisca dei beni del clero che fu presentata come una doverosa restituzione al popolo di ricchezze sottratte con sotterfugi nei secoli bui. In età romantica diversi storiografi in primis Jules Michelet bramosi di scene tragiche e apocalittiche diedero pieno credito a tali leggende raccontando in termini melodrammatici le angosce del popolo cristiano alla vigilia del millennio. Nel 1876 l'edictionnaire universella rus conferì un'ulteriore consacrazione a questo mito storiografico contribuendo a diffonderlo nei manuali scolastici. In Italia soprattutto Giosuè Carducci accreditò tali fantasie nei suoi discorsi sullo svolgimento della letteratura nazionale. Se questa è la leggenda che cosa in realtà ci raccontano le fonti coeve o di poco posteriori al mille? Cominciamo col dire che anche questa come tutte le menzogne parte da un nucleo di verità. Da un lato l'attesa escatologica biblicamente fondata della seconda venuta di Cristo che ha sempre accompagnato la storia della cristianità soprattutto medievale alimentando talvolta tendenze millenaristiche poi condannate dalla Chiesa e dall'altro l'evidente fioritura demografica economica artistica ed intellettuale che ha caratterizzato l'Europa dopo il Mille. Tutto questo però non avvalla la tesi del terrore dell'anno Mille perché dalle fonti non risulta alcun indizio del fatto che l'umanità al volgere del decimo secolo fosse triste e inerte nell'attesa della fine nell'attesa della fine. Al contrario tutti i documenti ci presentano un'umanità un'umanità che vive come sempre lavorando e progettando per il futuro come se avesse davanti a sé tutto l'avvenire. Le 150 bolle papali pubblicate dal 970 al Mille non fanno menzione della fine del mondo. I venti concili svolti dal 990 al Mille non accennano a questa drammatica scadenza al contrario legiferano per gli anni successivi al Mille a dimostrazione che i vescovi non credevano all'imminente catastrofe. Ad esempio nel 998 il concilio di Roma imponeva al re di Francia Roberto II una penitenza di sette anni e quindi fino al 1005. Il 31 dicembre del 999 Silvestro II riconfermava Arnoldo arcivescovo di Reims. I veneziani si impadronivano dell'Istria e della Dalmazia nel 998 999 e nello stesso periodo Stefano d'Ungheria otteneva dal Papa il titolo di re. Inoltre dal 950 al 1000 solo in Francia furono costruiti o restaurati circa 120 monasteri. Ci sono inoltre chiare attestazioni di come gli uomini di chiesa si adoperassero per sconfessare le profezie apocalittiche circolanti in certi ambienti. e quando il 22 dicembre del 968 si verificò un'eclissi totale di sole di sole che spaventò l'armato di Ottone I il vescovo di Liegi rassicurò i soldati sostenendo il carattere naturale del fenomeno. Abboni di Fleury racconta di aver dovuto in due occasioni confutare pubblicamente false profezie sul prossimo avvento dell'anticristo. Da quanto riportato risulta evidente che la leggenda dell'anno 1000 come ha riconosciuto anche lo storico Georges Duby rappresenta una delle tante manifestazioni di ingiustificato disprezzo nei confronti delle proprie radici medievali da parte della cultura occidentale.